Musica Cari amici benvenuti in questo nuovo video di YouTuber's Life Yeeey Questo è un simulatore Tycoon appena rilasciato in Early Access su Steam In cui dovremo calarci nei pani di una persona intenzionata a diventare il più grande YouTuber di tutti i tempi Partendo dal computer Scraus una connessione schifosissima Pochi soldi e poco di tutto ma con tanto impegno magari riuscirà a vedere crescere il proprio canale su YouTube Vediamo come ce la caveremo in questa grande avventura e quanto sarà simile alla nostra storia sul tubo Il Big Bang proprio È da tanto che ci stiamo provando Eh ma non è andata molto bene allora Finalmente ce l'ho fatta Sono il più grande YouTuber in assoluto Cos'è? Per me è un sogno Sto qua che sta sognando Ah finalmente io comando il mio stesso network È stato un viaggio davvero molto lungo e difficile Questa è la mia storia Ah ok Ok quindi ce l'abbiamo fatta Si va ritroso qui Maschio o femminuccia? Beh come credi Faccio il maschietto Poi cosa abbiamo? Sì sì sta Abbiamo i capelli Tipo Goku così No Questi qua Ma aveva qualcosa di bufo Che non è ma Questo Questo qua è perfetto E ora abbiamo personalizzato il suo personaggio un po' a caso Ma va bene lo stesso Sembra simpatico Vai avanti Allora dobbiamo scegliere la nostra personalità Sei un campione nel fare i video virali La tua unica ambizione è quella di fare sempre di più Ogni view è iscritto Conta La tua ossessione con i soldi No non mi interessa Poi ti piace Conosce nuove persone E socializzare Non ti interessa quello che pensano gli altri L'importante è studiare E imparare nuove cose Perché è facile E divertente E ti applica molto negli studi Perché naturalmente è uno studente il nostro personaggio Quindi ogni tanto dobbiamo anche farlo preparare per gli esami Ci sono cose più importanti di fame e popolarità Io mi sto divertendo troppo per preoccuparmi Quindi divertiamoci tutti insieme Romantico Il tuo sogno di una vita è quello di trovare la persona speciale Che tu non ti fermerai finché non l'avrai trovata La tua anima gemella sta aspettando te Oh che tenerezza Boh non saprei esattamente cosa scegliere E direi proviamo questa Io l'ho scelto il genius Eh lo so Guardi se mi da retta Sì proviamo Cosa è gli studi Io voglio pensare che ogni iscritto conta Perché ci tengo Quello certamente Ma non cominci Un po' di cultura ci vuole Che cosa vogliamo parlare sul canale Eh direi che non abbiamo molta scelta Fashion blogger te l'ho detto il meglio di no Visto che in early access le altre cose saranno sbloccate Tra un po' abbiamo anche moda, lifestyle, cucina e musica Però direi di andare sul gaming Anche perché è l'unica cosa sbloccata fin dall'inizio Scegliamo il nostro nome Facciamocela una chiaso Tyler Jaydon Tate No vabbè Andiamo su una roba più normale No dai sono casuale Ma che il nostro canale si chiama Eternal Love Sì ma io sono sempre esclusa Ma io non esisto E come ti chiamo Dove ti metto sulla schiena Faccio una persona doppia Ma per far condizio potresti non fare nessuno di noi Così vuol dire essere megaloman Megalomanel Megalomanel mi dovevo chiamare Scusa Eh sì era meglio Guarda qui quanti personaggi strani potremo incontrare Ho iniziato a fare video in questa stanza Mi sono appena trasferito con mia mamma E non è che io abbia molti amici qui intorno Diamo un'occhiata alle prime cose che ho imparato Prima di diventare lo youtuber numero uno Qual è la mamma? Ok devo muovermi in giro per esempio Guarda un po' Eeeh va che bello Ah questa è casa mia Bella Abbiamo anche la casa Ogni tanto dormire e mangiare Chi lo sa È vero Guardate ogni tanto devo mangiare e dormire No Perché ci sono anche queste cose Il supplizio della realtà Durante quei giorni Mi divertivo a fare video Con i giochi che avevo nel Non è uno il scenario È uno ne avevo Cosa scegliamo Oggi direi di partire con Empire Planet 2 Ora io devo cliccare qua E scegliere il tipo di video Mi sembra che è un po' bloccata la scelta Al momento posso fare solo gameplay Ma magari manovando che vado avanti Posso fare alcuni video E se è il primo del mondo a farlo Però posso fare delle recensioni Delle walkthrough complete Delle collaborazioni E delle speedrun Ma andiamo sul gameplay Iniziamo il nostro video A questo punto dobbiamo configurare la webcam È falso è falso Da quando serve Ma quando mai serve la webcam Magari poi fare questo gioco Ci convinceva che era più utile usarla Ma fino ad allora intanto Tanto abbiamo già deciso Che il giorno in cui ci faremo vedere Solo L Solo L si farà vedere Ecco invece chi la userà Sento non esisto Fa vedere i piedi e basta La tua workstation La tua workstation Ha un limitato A montare di rendering point Quindi questo è il nostro computer base Che ha 12 punti Ovviamente Ma la mano che andiamo avanti Più potremo potenziarci Come tutte le persone Iniziano E pensate che noi avevamo Un computer portatile E quindi era ancora peggio No era un mini computer portatile Non era manco di dimensioni degne La metto per bontà d'animo Perché il gioco me lo suggerisce Il microfono fa schifo Ed è un monodirezionale Va bene Va bene E di meglio non si può fare Stiamo usando un monodirezionale Anche adesso in realtà Quindi non mi sembra tanto normale Continua Allora il nostro primo video Come lo chiamiamo Lo chiamiamo Non ci metterlo davanti anche qui Eh L Eh scusa Ci vuole E che diamine L E lo facciamo L'inizio 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 della fine Della fine Perfetto E lo chiamiamo così L'inizio della fine Empire Planner 2 gameplay Non lo scriverei mai Numero 1 Così Dai Bellissimo Una meraviglia Iniziamo C'è sempre stato l'idea di tui titoli Io non mi sento colpevole di ciò E noi dobbiamo cercare di risolvere Scegliendo la carta giusta Dobbiamo scegliere la carta In modo che generi Le Gli skill point migliori Allora sto registrando Cosa faccio Happy expression Happy expression Sono bello contento Esatto I miei punteggi sono saliti Sono salito di livello Quindi sono contentissimo Canta Canta E canto Dai sono contentissimo di livello Stupendo Bene E adesso direi di poter passare Alla parte successiva Adesso No c'è anche L'editing C'è anche la parte dell'editing No Va bene Devo cercare di mettere Nel modo migliore possibile E poi devo aggiungere eventualmente Degli effetti Allora aggiungiamo il titolo Perché ci vuole Poi concludiamo con questo colore Che va a svanire Nove ore di rendering E applaudotore Uguale a noi all'inizio Uguale Uguale noi all'inizio 8 ore di applaud Li facevamo fino a un mese fa Sì ma almeno il rendering Si è un po' abbassato Il rendering è un po' migliorato Ma neanche così tanto Ok Ci siamo Ok Stiamo facendo dei risultati buoni Vabbemente all'inizio Vedo quali ti sei Non so se è una cosa buona Stiamo anche salendo di livello Stupendo Quindi c'è anche questa sorta di progressione Tipo gioco di ruolo E ovviamente Mano a mano che andremo avanti Avremo un Un punteggio migliore E cose del genere Ed è il momento di Pubblicare il video Devo cercare anche Di studiare Veramente Perché ho da fare un test ogni mese Altrimenti mia mamma Mi bacchetta Giustamente Devo andare a scuola Come devo andare a scuola? A me Mentre se il video si mentalizza Anzi Mentre si sta caricando Vado a studiare Il video online 5 iscritti 5 iscritti No è stupendo Non ho tempo di andare Fuori di casa E' vero vero Per fare acquisti Perché figurati Uno youtuber Non si può muovere No 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 Fortunatamente posso andare Su Amazon E meno male che c'è Amazon Via avvicinati Vediamo se posso comprare Infatti Amazon finalmente Sta cominciando a dare roba da mangiare L'ha fatto per noi 14 iscritti Cioè è incredibile Su 61 view 15 iscritti E' realistico E' realistico Però è stupendo Go shopping Vediamo un po' Noi Che direi Amazingon Eh vedrai No dovete sapere Gli youtuber Sono delle creature della notte Che non escono mai di casa Solo si polverizzano Non hanno il tempo Neanche di andare A fare le cose in bagno Devo occupare un nuovo gioco 100 dollari da parte Vediamo un po' L'Ord Battle for Upper Earth Signore degli anelli Poi qui abbiamo Half-Life Abbiamo per esempio League of Legends Eh sì sì Abbiamo Warhammer League of Giants Vale di più League of Legends E si sa che LOL Magina Guardate ha ben 4 stelline Quindi meglio partire con lui LOL Vai In 4 ore è già arrivato Prime è una meraviglia L'ho sempre pensato Torna indietro Ma è stupendo E qua per esempio posso comprare Dei nuovi computer Un nuovo monitor Un microfono nuovo Ma anche nuove console Guardate La Zbox La Zbox Me l'aspetto diversa io Eh ma nera è nera comunque Il più delle volte Ok bene usciamo Allora se non inizio a studiare Un giorno io ti picchio Ciao mamma Mi raccomando Puoi prendere anche dei soldi Extra Ceno di lavori temporanei Tanto apriamo subito la box League of Giants È qui Ma fai i compiti adesso però No io ci vorrei subito Un attimo un video intanto Visto che con quello che ci vuole Choose Game Vai con League of Giants E facciamo un altro bel gameplay Le leggende iniziano adesso Andiamo subito a preparare il video Manca un po' il Creep Engine Il Creep Engine Stai non ci manca Ho sto setto di livello Quindi Happy Expression Ci vuole Wow Andiamo con l'editing Direi che l'editing Aspetta prima questo Poi questo così Doppio Verde Ottimo Di nuovo titolo E facciamo un po' di soft focus In fondo Che ci sta sempre bene Oh di nuovo nove ore E otto di quello Vabbè fai i compiti Mi sa che è meglio L'interesse più alto Siamo saliti Nuovo record per tutto E stiamo salendo di livello Naturalmente diventeremo Sempre più bravi Mano a mano Che andiamo avanti Tutti i commenti positivi Sii comment League of Giants È il miglior gioco Che ho mai giocato Questo gioco È veramente fantastico Grande Mi è piaciuto tantissimo Guardare il tuo League of Giants Gameplay Molto interessante Abbiamo sfondato Grande E neanche un insulto Non ci credo Non ci credo Guardate subito Come stiamo salendo Quando ancora Non si ha la partnership Si vive male Anche per un altro motivo Quando non abbiamo La fibra Cioè non abbiamo La fibra Abbiamo la connessione Scrausosa Questo fino al mese scorso Era così Ma abbiamo anche computer Scrausosi Dovevamo pubblicare i video Cioè Impegavamo Mezza giornata Per fare l'editing Mezza giornata Per fare il rendering E un'altra mezza giornata Per poterlo mettere online E non si poteva programmare L'orario d'uscita Quindi bisognava fare attentoni Di più o meno A che ora esce Sono carico adesso Ma all'incirca Le 5 di mattina Ma aspettiamo ancora un po' Posso anche andare A fare un lavoretto extra Per esempio Vado a consegnare Dei giornali Aiutare la nonna Oppure lavare macchine Direi che vado a consegnare Il giornale Oh c'è un'amica Ho portato a casa un'amica Ciao Xevil Voglio fare un video Mentre gioco un gioco Ma non so come registrarlo Puoi farlo tu E uploadarlo Io ti mando il gioco Certo Grande Iron bitch Vai subito a fare il gioco Intanto Scegli il gioco Lo facciamo subito Così mi è contenta Sta tipa Sono salito di livello Sono molto contento Quindi happy expression Direi Perché sono veramente felicissimo Yeah Sono salito di livello E poi abbiamo Sto facendo un pochino Un resoconto finale Del gioco E quindi direi Che poi alla fine Un off topic comment Parlo anche di qualcos'altro Giusto per dire È bello questo Non ho più punti Non posso fare niente Ah no perché sono stanco Non ho notato Se voi non siete A piena carica Non riuscite a fare Le cose al meglio Siete stanchi Questo video Non sarà neanche granché No Forse fareste il meglio Non metterlo affatto Vediamo New record New record Però edition Non mi dà zero Sono salito comunque Di livello a farlo Però Non lo so Cosa dovrei fare Ci provo Vediamo Ciamo un test Anche se non è perfetto Pubblichiamolo Vediamo se è piaciuto Il mio secondo video Ho fatto 2400 view Ma siete pazzi Ma non è vero Devi mangiare Devi dormire Oh questo è uguale Eh purtroppo è uguale Anche questo Sono stanco Nanna Nanna Purtroppo ogni tanto Sono a dormire Ed è la cosa che odio Di più della vita reale E nessuno deve mai Sotto le coperte In questi giochi È incredibile Guardate come è andato bene Guardate Che vuole sta qua Mille subscriber Dopo Due video Non è vero Non esiste No non esiste proprio È un po' irrealistico Bello bello Va bene C'è un importante convention Però costa 100 dollari andarci Congratulazioni Hai raggiunto il livello 2 Ci provo ad andare Vado Ho comprato il turquette E ho appena vinto un talent point Ogni volta che sali di livello Vinci un punto che puoi investire Nel migliorare E scoprire nuovi tipi di video Un abbraccio Perché sono andato a scuola Perché ho studiato abbastanza Questa settimana Mamma maledetta Se no mi arriva lì qua Con la mazza da baseball Andiamo ad assegnarlo Per esempio Posso scegliere Di andare verso La parte casual Quindi Come Minecraft Fare i social game Come sandbox Puzzle Minecraft 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 Mi danno un po' più like Andare di qui invece Fare in modo che Le persone Se tu fai un let's try iniziale Appena un gioco esce Saranno molto curiosi Perché sanno Che tu sei il primo A pubblicare quei video Ma se tu li pubblichi Dopo un po' Ci sta che non siano più Così tanto convinti Visto che al momento Prendere i giochi Appena escono Costa parecchi soldi E non so se me lo posso Promete Non puoi farlo Proverò ad andare Da questo lato Ah poi due volte Addirittura a potenziarlo Eh adesso così Quando mi potenzio ancora Poi magari prenderò Un altro 10% Per un totale Di 20% Più like Che poi i like Che cosa servono Non ho mai chiesto Yeah Ho preso delle nuove card Guardate Posso fare un funny comment Un saluto Giusto Un saluto iniziale Ci vuole Cari amici Un saluto finale Sto morendo di fame Abbiamo da fare Un nuovo gameplay Di questo gioco A noi non è mai successo Che una persona Ci prestasse un suo gioco Per farcelo Giocare in un video Ma immagino che a qualcuno Succeda Ti puzzano i giganti Ti puzzano i giganti Certo Ti puzzano i giganti Piedi vorrebbe dire I giganti i piedi Ma non lo diciamo Perché potrebbe essere volgare Dire piedi in pubblico Poi la gente pensa male Beh saluto Mentre il gioco si carica Ciao Evviva Così iniziamo subito Poi il first game Sto imparando Come giocare Quindi Sono contento Che il gioco mi piace Potrei fare un happy expression Poi un commento felice Perché dico Vai vai fai il commento Commento felice Dando un sacco di punti No Non è andato bene Non dovevo fare un commento felice Non dovevo fare un commento Forse devo farlo Che sia uguale qua E qua Dici Marderous look Può darsi Quello si Ora ho capito Quindi Visto la cosa bella Che quindi ho scelto La seconda cosa Male Forse deve Forse deve adattarsi Per il first game Per il first game No perché Vuoi divertire con noi Dai andiamo al party Vai all'evento Dove stiamo andando di bello adesso In un posto in cui dovessi nasconderti Perché con c'è Wow Posso andare alla festa Ah E parlare Magari diventare amici delle persone Voglio vedere il mio profilo Magari C'è qualcuno Che è un grande Quindi posso diventare E beh E chi non sta a stalkerare il prossimo Per la vai in discoteca Per contro essere un youtuber Abbracciola amica Vieni qua amica April Ma ci si può Può flertare Ask for a date Ah si può flerta Flerta Flertaci Ma su No non ho tempo Devo prestare i video E non stare le cose No non ci sta Non ci sta Ora si abbassa tantissimo È colpa tua Pregaci Dammi il tuo Rubagli il cappello Provaci con qualche donnina Ma perché no Perché ti serve una donnina Per fare i video Se non avessi avuto me Tu a questo Lo staresti ancora Arrazzolare nelle fogne Eh Ma no Si chi mi fa razzolare nelle fogne Ma ti sembrano Ormai le ha di queste cose Ora siamo amicissimi Si Ora posso chiamarla Quando voglio Eh si lo so È la migliore di tutte Va bene Ora cara amica Però me ne vado Ciao Ma no Ma te non le sapeva Non sapeva come si fa Le parti Eh d'accordo Ci incontriamo di nuovo Di sicuro Bene Sono finalmente Tornato a casa Pronto Per la prossima Avventura E quindi Da quel momento in poi Potevo andare A fare le feste Ogni volta Che volevo Invitare anche I miei contatti E posso andarci Grazie al calendario Sul telefono Come sta andando Tipo Sono i giganti Grandiosi Alcuni eventi Però hanno un dress code Quindi devo stare attento A scegliere bene Quando ci vado Ah 5 mila 5 mila 5 mila view Ci siamo Ci siamo Guarda lì Campioni Campioni Ho preso due nuovi premi Grazie a Ti puzzano i giganti Che ora faremo un primo Paro di un video Che si chiamerà Ti puzzano i giganti Perché ne vale la pena Ah posso anche Personalizzare la stanza Questo gioco È veramente Pieno Di cose Stupende Da fare Diciamo che Questo è stato Il nostro inizio Abbiamo fatto Ben 4 video Di cui League of Giants È un campione Abbiamo preso Il nostro primo Non mi piace Apparentemente Quindi forse Quando lo scrive lì È più o meno Il parere generico Non è proprio Un numero di Mi piace O non mi piace E possiamo dire Che è andato Veramente benissimo Con ben 5 mila view Quindi questo è Youtuber's life Vi abbiamo dato Un assaggio Di come potrebbe essere Questo gioco Fate sapere Che cosa ne pensate Secondo noi È veramente Bello Veramente ben fatto E comunque È un early access Quindi mi piace Dice nei commenti Se vi fa piacere Che continuiamo A giocarci Grazie di quale Per essere stati con noi E Alla prossima Ciao 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 Ciao